Stazione, poche luci e troppe ombre tra risse, droga, degrado, sporcizia. Il grande progetto di riqualificazione sembra finito su un binario morto. In passato abbiamo più volte documentato questa situazione. Ci sono bottiglie di grappa e birra a terra in mezzo a cestini dei rifiuti dismessi. Due passi più in là, un monumento dimenticato, quello dei ferrovieri caduti sul lavoro, dove riposano e accanto al monumento a loro dedicato in stazione, oggi ci sono i senza tetto. Ai nostri servizi oggi però rispondono i neoparlamentari della Lega che si preparano a presentare un'interrogazione. C'è ormai uno spaccio aperto al pubblico fuori da ogni stazione e una situazione generale comunque di insicurezza. Per questa ragione abbiamo proposto questa interrogazione affinché il governo valuti e si prenda in carico anche proprio la responsabilità di dare una risposta ai cittadini. Abbiamo un momento dove parliamo anche di turismo, di rilancio delle nostre città, però ricordiamoci che il primo biglietto da visita è la stazione. Nel momento in cui noi arriviamo in una stazione e troviamo purtroppo persone, spacciatori o comunque una situazione di degrado, penso che sia uno dei peggiori modi di presentare le nostre città. E questo è un tema che noi di Rete Veneta proponiamo anche ai candidati sindaci. Vicenza è una città che dovrebbe vivere di turismo e la stazione è uno dei biglietti da visita della città, mentre Campo Marzo è uno degli ingressi al centro storico. Dunque benvenga questa interrogazione parlamentare, ma ora quello che serve è soprattutto l'impegno del futuro sindaco. È importante creare delle grandi mostre, è importante creare delle occasioni di incontro per la popolazione ma anche per i turisti. È altrettanto fondamentale però creare un'attenzione al contorno, cioè alle strade, alle botteghe, alla stazione, perché se queste non sono curate nei minimi particolari ovviamente un turista non è incentivato a venire a Vicenza. Io credo che la prossima amministrazione comunale dovrà fare molto per queste aree perché sono cruciali e sono assolutamente importanti.